Non parte, la mia macchina non parte neanche la mia si mette in moto, non partono non parte, oggi è il 12 di ottobre oggi le macchine non partono la mia si ma cosa fa, ma dove va? ah, in ufficio, dove vuole che vada? oggi è il 12 ottobre, è la terza edizione nella giornata del camminare, si lo so, io detesto camminare, allora? e allora le macchine non partono, deve andare a piedi io ho la soddisfazione di andare a lavoro senza macchina, non ve la do seminiamo questo scocciatore? più veloci più veloci niente, traffico sulla Roma, l'Aquila situazione politica camminare, camminare sì, viaggiare evitando le buche più dure il 12 ottobre ci sarà la terza edizione della giornata del camminare in tutta Italia, percorsi, manifestazioni, itinerari per riscoprire una città a misura d'uomo, passo dopo passo il 12 ottobre venite a camminare con noi tornate subito qui, non vi pago ma ogni anno? quindi anche questo 12 ottobre liberi di camminare camminare, camminare come l'onda in mezzo al mare camminare, camminare liberi di naufragare turner ma in dre turner ma in dre senza busso nel timone senza rotta nei confine camminare, camminare venti e stelle da inseguire turner ma in dre 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 turner ma in dre